Il journaling è uno dei metodi più efficaci per manifestare. Si basa sull'utilizzo della scrittura creativa quotidiana. Quello che ti serve è semplicemente una penna, un diario e 5 minuti del tuo tempo da dedicare a te stessa. Scriverai tutto quello che desideri, i tuoi pensieri, le tue emozioni più profonde. Questa è la tecnica più potente che ti permette di fare introspezione, di entrare dentro te stessa, così di conoscerti meglio. Alcune persone non sanno che cosa vogliono realmente e per scoprirlo possono utilizzare questo metodo che è veramente efficace. Io lo utilizzo già da molto tempo, ancora prima di conoscere e approfondire la legge dell'attrazione. E ho sempre ottenuto ottimi risultati. Mi aiuta a pormi gli obiettivi, a raggiungerli e soprattutto a manifestare i miei desideri. Scrivisi nei commenti se vuoi che ti faccio un video dove mostro i migliori journaling che esistono in commercio. E se non lo fai ancora, clicca qui, seguimi, così non ti perderai nessun aggiornamento sulla legge dell'attrazione e sulle tecniche più efficaci per manifestare.